Buonasera a tutti, noi siamo i Coraliera, Francesco Speziale e Domenica Buda. E noi stasera presenteremo Jok, che è un monologo teatrale con una forte componente musicale, uno spettacolo da noi ideato per musica e testi. Lui si occupa delle composizioni e degli arrangiamenti, io mi occupo dei testi e della drammaturgia, insieme curiamo la regia. E cosa vi devo dire? Siamo qui ospiti di Shabaka Festival e insomma vi aspettiamo stasera alle 21.30. Non mancate, oh Spez, dici qualche cosa? Grazie, ciao. Ciao a tutti, grazie. Grazie.